Caro dottor straniero, mai come oggi la nostra azienda è in fase di implementazione delle risorse umane e c'è naturalmente un grande interesse per figure nuove e dinamiche. Però con un curriculum vitae come il suo, laurea in lettere, 107, nessun precedente lavorativo, certo che non. Non? Non. Passiamo a uno screening delle sue caratteristiche psicologiche. Parliamo pure liberamente per conoscerci meglio. Allora, quale crede che sia il suo maggior pregio? La sincerità. E il suo principale difetto? La sincerità. Qual è la sua più grande aspirazione? La sincerità. È un giovanotto sveglio, vedo. E allora mi dica, qual è il reddito annuo della sua famiglia? La sincerità. La sincerità. La sincerità.